Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è mercoledì 30 agosto 2023 e vediamo subito di chi è il compleanno oggi, di chi si festeggia. Probabilmente saranno poche le persone che portano questo nome, ma ovviamente facciamo gli auguri alle stesse. Vediamo l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggiano due santi, San Felice e San Adauto. Vediamo chi sono questi due personaggi. Felice, condannato a morte per la sua fede sotto l'imperatore Diocleziano, fu accompagnato, mentre lo portavano al luogo del suprizio, da un cristiano che, manifestando la sua fede durante il percorso, fu condannato a morte anche lui. Fu chiamato Adautus, ovvero aggiunto. Ecco perché insieme a San Felice si festeggia anche Adauto, di cui non si cà il vero nome. Le previsioni del tempo. Cieli molto nuvolosi, anche oggi ho coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 23 gradi, sensibilmente molto più bassa rispetto ai giorni scorsi. La minima si è testata a 18 gradi, quindi al mattino presto fa un fresco, veramente, che dopo la grande calura dei giorni scorsi è veramente gradevole. Questo è per quanto riguarda le previsioni del tempo. Vediamo che il mare sarà mosso e il vento spirerà da nord-nordovest. E vediamo ora le aperture dei giornali a partire dal resto del Carlino sulla pagina di Fano. Vediamo che vengono così ascoltati di nuovo i residenti, gli operatori, soprattutto di Viale Dante Alighieri, per il cambio di viabilità che c'è stato fin dai mesi scorsi, ma che ancora destra polemiche agli stessi abitanti. Non c'è pace in Viale Dante Alighieri, pronti a fare causa al Comune, tant'è che gli abitanti stessi, gli operatori, hanno dato mandato al loro avvocato di fare un ricorso in prefettura perché si insista nei confronti dell'amministrazione comunale di Fano a fare un passo indietro. Il nodo della sicurezza e dei mancati incassi agita i commercianti, che si rivolgono appunto a un avvocato. Già inviata una lettera al prefetto per chiedere di modificare la viabilità decisamente peggiorata dopo la pista ciclabile che è stata realizzata in Viale Dante Alighieri, dopo i problemi sorti anche con la mancanza della fiera, che negli anni scorsi si svolgeva anche sul viale, e quindi un mancato incasso da parte degli operatori. La nuova viabilità in Viale Dante Alighieri ha aggravato gli atavici problemi di sicurezza lamentati dai residenti e per di più ha creato grossi problemi alle nostre attività economiche, hanno dichiarato appunto i commercianti. E' stato dato mandato all'avvocato, si chiama Taddei, che ha scritto al prefetto Emanuela Saveria Greco, chiedendole di intercedere presso il Comune in considerazione dei rischi che la nuova viabilità procura all'incolumità dei residenti, i quali purtroppo tutti i giorni sono costretti a percorrere questa strada. C'è una pericolosità maggiore, si evidenzia in questo articolo, in modo particolare all'incrocio con via Cristoforo Colombo, dove si percepisce il senso delle parole di protesta. L'auto che vengono dal centro, per svoltare a destra, devono inevitabilmente avanzare per avere la visibilità nell'incrocio, e in questo caso corrono il rischio o di invadere le piste ciclali, scusate, di invadere l'attraversamento pedonale, appunto le zebre che attraversano la strada e quindi i pedoni, oppure di incoccare con una macchina che giunge dalla parte opposta. Ecco perché si protesta. E poi si rivolge una domanda. La gente si chiede, ma con tutti questi tir i ponti reggono? Ebbene, l'aumento del traffico, grazie alla vivacità della zona industriale che ha assunto la zona portuale, ebbene, grazie a questo aumento del traffico i timori sono aumentati. Ma a rassicurare i residenti, c'è l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori e il vice sindaco Fanesi, che tranquillizzano controlli annuali con la strada delle barche e la situazione cambierà, è stato appunto detto. E vediamo ora un fatto di cronaca, conseguente a quanto è avvenuto nei giorni scorsi. Era la settimana scorsa nella zona del Lido di Fano, ero lì, ma non sono stato io. Due persone hanno aggredito un cameriere per estorcerli una somma risibile, poche decine di euro. Ebbene, uno dei due fermati dice che era estraneo a questa posizione, è stato appunto interrogato dai carabinieri, si è presentato anche in caserma, mentre il complice fino adesso non si è visto. E poi a San Paterniano, domani si darà l'addio a Luca, al soprano Luca Rulli, l'operaio fanese di 59 anni, con la passione soprano, scusate, tenore, ho sbagliato ovviamente, era un tenore, di 59 anni con la passione del canto, morto nella notte tra venerdì e sabato, e in un incidente stradale a Fosso, sei ore. Ebbene, a salutarlo, a così, a dare il compianto a questa cerimonia religiosa, saranno tutti gli amici coristi, quelli che fanno parte del coro polifonico manatestiano, quelli che fanno parte del coro lirico, quelli che fanno parte della cappella musicale dell'uomo. Un grande canto solidale, commosso per dare l'addio a questo appassionato della musica. Ed ora passiamo a Cartoceto, dove si protesta perché il campanile della chiesa è stato usato, invece di suonare le campane, è stato usato come supporto per sostenere delle antenne. Campanile deturpato per pochi spiccioli. L'opposizione tuona contro le sette antenne di telefonia che sono state installate sul campanile, appunto di questa chiesa. Un contratto da 4.000 euro l'anno, almeno, dico, aggiustassero la torre, perché poi le campane non suonano da diverso tempo. Un campanile secolare deturpato dalle antenne di telefonia in cambio di cifre irrisorie. E come se non bastasse, ora non ha neanche più voce, perché l'impianto che garantiva il funzionamento delle campane si è guastato da mesi e l'amministrazione comunale, nonostante le numerose sollecitazioni, non l'ha ancora riparato. Ebbene, protesta così la minoranza consigliare di Cartoceto, insieme per Cartoceto, guidata da Gianluca Longhi. E poi vediamo a fondo pagina un articolo che riguarda l'attività della Banca di Credito Cooperativo di Fano per quanto riguarda i primi sei mesi dell'anno. Un'attività molto positiva che ha incrementato ancora l'utile, conseguito dalla banca, che ora raggiunge i 3,8 milioni di euro. Ebbene, un aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Rispetto all'esercizio precedente, la raccolta totale è cresciuta del 2,4%, raggiungendo il miliardo e 336 milioni, con una lieve diminuzione del 2,8 rispetto alla raccolta diretta. Ebbene, sono numeri però che confermano questi la solidità della banca, che si evidenzia sempre più come banca del territorio, ovvero una banca che affonda le radici nel territorio, nel sistema economico locale, finanziando tante tante iniziative. Veniamo ad Urbino. Ad Urbino abbiamo una dichiarazione del sindaco Gambini in merito all'ultimazione della superstrada Fano Grosseto con la riapertura della Galleria della Guinza. Ebbene, è un argomento questo che suscita sempre polemiche di carattere politico tra diversi comuni, perché poi ovviamente la riapertura della Galleria non fa altro che fare la funzione di attrattore di traffico e questo può creare dei problemi nei rispettivi comuni. Ma il sindaco dice, beh, non litighiamo ancora, perché veramente se lo facciamo, questo progetto, non si realizzerà più. L'importante invece è realizzarlo. Occorre quindi compattezza. E questo vocabolo viene proprio utilizzato per evidenziare la posizione di Gambini su questo argomento. I bus in centro a Urbino. È un argomento che tiene banco da diverso tempo. L'eliminazione dei bus nel centro di Urbino ha creato veramente tante tante polemiche. Oggi lo ripropone alla ribalta della cronaca la consigliera regionale Micaela Vitri del Partito Democratico. La consigliera regionale fa un appello e cita anche Umberto Piersanti, il poeta, che aveva lanciato lui stesso una invocazione perché il servizio fosse ripristinato per quanto riguarda non il suo valore economico che ovviamente crea problemi alla ditta che lo assicura ma per quanto riguarda invece la sua importanza sociale perché gli anziani, Urbino sapete, è una città dove c'è certo saliscendi, ebbene gli anziani hanno bisogno di un servizio pubblico per frequentare il centro. La consigliera regionale Micaela Vitri fa un appello e cita Umberto Fersanti tornino le corse dopo le 17.50 si pensi ad anziani e persone fragili. E questo appunto l'appello. Vediamo ora quello che è accaduto tempo fa nel nostro territorio, nei pressi di Sasso Corvaro Auditore, dove un incidente automobilistico stava per creare gravi conseguenze. È stato un evento drammatico ma per fortuna si è risolto bene. Per colpa di buche, frane stradali ho rischiato una morte terribile. Allora ha dichiarato il dottor Tibaldi che è stato appunto vittima di questo incidente e lo vediamo qui immerso tra i rovi frastornato, tumefatto dalla caduta in seguito all'incidente e qui la macchina che è precipitata nel burrone. Si considera veramente miracolato e ora vuole raccontare la sua storia perché ha detto debbo ringraziare alcune persone e segnalare alcune criticità. Cominciamo dall'inizio, dal 31 gennaio scorso quando Gianni Tibaldi, che ha 65 anni, di Sasso Colvaro, con la propria auto è finita nel precipizio. Ebbene, veramente, quando ha capito che non era morto, perché dopo un volo così veramente tutto cambia, tutto si obnubuilla tutto diventa confuso, ecco, uso un altro termine tutto diventa confuso, tutto diventa incerto una persona non capisce più niente quando invece riacquista la sua lucidità capisce veramente di essere stato miracolato ma una cosa del genere non deve più accadere dice Tibaldi e quindi occorre prendere provvedimenti. Vediamo ora qualche notizia sulla prima pagina del resto del Carlino per quanto riguarda la regione Marche dove scoppia la polemica per il testimonial di Mancini Roberto Mancini Caso Mancini, Ricci, ci trascina nel ridicolo lo dice il deputato Mirko Carloni in contropiede con le parole del sindaco che invece predilige che il testimonial passi a Tamberi a Tamberi dunque il nostro campione di salto in alto e beh, che cosa dire su Mancini Mancini testimonial della regione Marche ora non è che abbia una gran fama quindi non è che può valorizzare molto la nostra regione dopo quello che ha fatto e beh, però non si può condannare uno che rinuncia a una fetta di compenso così grande 25 milioni all'anno non sono pochi però ovviamente questi titoli aggiuntivi di testimonial così destano molte, molte perplessità Capitale della cultura alla scoperta di Pesaro sono stati reclutati 11 influencer con 500 mila follower la strategia del comune di Fano recluta queste persone che nei loro social possono promuovere la nostra città la nostra provincia dice Ricci e questo è un metodo piuttosto così importante sbrigativo per così promuovere questo importante evento che dovrebbe rivolgersi dovrebbe così iniziare il prossimo anno ma che già quest'anno desta polemica perché secondo gli operatori il comune non ha fatto abbastanza per promuoverlo e parliamo di pizze parliamo di pizze perché c'è un'iniziativa eccola qua una iniziativa del comune di Pesaro per quanto riguarda la pizza gratis ebbene è la pizza Rossini sono già 1200 i prenotati li vediamo qui in questa fotografia tutti in fila per ricevere il coupon che dà il diritto a loro di avere una pizza gratis la pizza Rossini alle 10.30 erano già circa 200 i cittadini che hanno potuto godere di questa promozione mangereccia e certo che ha successo una iniziativa del genere sia per quanto riguarda la promozione della pizza sia per quanto riguarda insomma l'adesione dei cittadini una pizza a una pizza non si rinuncia mai Villa Fastigi tenta il doppio colpo è un ladro che è stato messo in fuga dai passanti nel merino anche la Pneus dove aveva oscurato le telecamere rintracciato e denunciato dai carabinieri si tratta di un malvivente che già aveva dei precedenti che ha tentato il doppio colpo a due aziende di Villa Fastigi ma i passanti lo hanno individuato e lo hanno messo in fuga si tratta di un 47enne che era entrato anche in un'azienda di Salumi ma all'interno c'era il proprietario e così appena l'ha visto è scappato ed ora diamo un'occhiata anche a quest'altro notizia di cronaca la condanna non è servita torna libero e picchia un vigile dopo il fatto di gradara ieri l'uomo arrestato domenica è finito di nuovo nei guai avrebbe messo le mani al collo di un agente della municipale ed è stato denunciato di nuovo fresco di arresto condanna lunedì mattina per aver spaccato il naso con una testata al comandante dei carabinieri di Gabice ieri si è reso protagonista di una nuova aggressione contro alcuni agenti del municipale veramente indomito questo uomo dal carattere aggressivo un quarantenne di gradara che domenica scorsa è finito in manette per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ed ora apriamo il corriere adriatico vediamo l'apertura dedicata ad un argomento che va e viene sulle pagine dei giornali è quello del progetto della realizzazione di un nuovo convento sulla collina di Monte Giove è una richiesta questa dei monaci trappisti che ora si trovano nella casa madre di Frattocchie una località nei pressi di Roma una casa madre molto ampia molto grande che si è dimostrata ormai super dimensionata per il nucleo del piccolo convento perché ormai i monaci si sono ridotti alquanto per quanto riguarda il loro numero e poi è immersa in una situazione ambientale non più confacente a uomini che aspirano al romitaggio al silenzio alla riflessione e quindi hanno deciso di vendere tutto e di trovare una nuova località dove poter così manifestare la loro vocazione in un ambiente più appartato più silenzioso più discosto e i loro occhi sono appuntati appunto su Monte Giove Monte Giove luogo della spiritualità già a Monte Giove esiste dal 1600 e ancora prima il convento l'eremo anzi dei camaldelesi recentemente si sono insediate anche le monache benedettine nei pressi al prelato abbiamo una chiesa con una commenda appunto realizzata dal prelato quindi abbiamo questi luoghi molto molto adatti ad accogliere questi eremi questi luoghi della spiritualità però ovviamente quando si tratta di approvare una variante in un luogo di carattere ambientale molto così molto protetto molto sentito per quanto riguarda la conservazione dello Stato di fatto sorgono delle polemiche la delibera della variante che dovrebbe trasformare quella piccola area da area agricola a area di carattere costruttivo dove si possono realizzare delle abitazioni ha destato diverse polemiche al momento è stata così non ritirata rinviata perché in quella seduta non era presente il relatore però sarà ripresentata e lo ha dichiarato proprio su questo articolo il vice sindaco e assessore all'urbanistica Cristian Fanesi che si augura che tutta la maggioranza ma anche qualche esponente dell'opposizione possa apprezzare questa iniziativa che dà ancora valore al colle di Montegiove dove la spiritualità viene appunto aumentata e l'impatto ambientale non è così forte come qualcuno potrebbe far credere dato che la valletta è molto discosta e alle spalle del convento verso Magliano in un luogo sperduto dove è difficile anche trovarlo veniamo ora alle altre notizie al via il marciapiede confermata la ciclabile si parla dei progetti dei marciapiedi che stanno per essere realizzati dall'amministrazione comunale dopo quello di via Mariotti ora l'attenzione dell'assessorato ai lavori pubblici si concentra su viale primo maggio e soprattutto su viale Dante Alighieri i cui problemi abbiamo già rilevato abbastanza tengono economia e fiducia a metà anno 3,8 milioni di utile è appunto il consentivo semestrale della banca di credito cooperativo di Fano che mostra una crescita del risultato di 900 mila euro e poi vediamo l'articolo che santisce la fine del progetto di quest'anno della questa calda terza età tutta una serie di iniziative che hanno coinvolto i club anziani del nostro territorio sono stati consegnati nell'ultima giornata nell'ultima iniziativa i premi finali sono stati premiati i classificati nel corso di fotografia realizzata con la collaborazione delle appassionate Monica Ricci e Ramona Neri come la tradizione sono stati consegnati targhe e riconoscimenti speciali ad alcuni anziani in particolare un omaggio è stato consegnato a Tarcisio Magrini e Alberto Montagna per il supporto dato a diversi giovani che hanno riqualificato alcuni spazi pubblici vi ricordate l'iniziativa Ci sto a fare fatica ebbene sono quei giovani che hanno così collaborato per fare delle cose a maggior a maggior decoro della città e quindi sono giovani meritevoli nel pomeriggio San Paterniano ultimo saluto a Luca Rulli eseguita l'autopsia nulla osta della procura e quindi la salma è stata riconsegnata ai familiari ed ora parliamo invece della Madonnina che era stata rubata a Fossombrone è stata restituita ma ancora non si sa chi l'ha rubata alle 8 di ieri trovata davanti alla sacristia ma si teme una nuova sottrazione c'è uno dei biglietti con delle frasi incomprensibili sono accenni dell'Evangelo però non si sa a quale contesto si riferiscono ed ora le indagini proseguono l'importante è che la statua della Madonnina dove ci sono così individuate solo alcune piccole dei piccoli graffi nella mano della Madonna ma sostanzialmente è integra e questa Madonnina è stata restituita alla chiesa la cui è stata sottratta a Mondolfo c'è la battaglia contro le antenne ma la battaglia contro le antenne c'è un po' dappertutto nel territorio c'è a Cartoceto c'è a Pesaro e ora c'è anche a Mondolfo elettrosmog impatto visivo quell'antenna inaccettabile la protesta dei residenti di Via Costa dopo l'autorizzazione del Comune e vediamo anche la pagina di Senigallia dove c'è stato un attimo di attenzione addirittura diciamo così cinque minuti ma cinque minuti forse anche qualche minuto di più molto molto lunghi da vivere perché quando si perde un bambino piccolo tra la folla ovviamente il genitore ha uno stato d'ansia veramente indicibile bambino di sei anni si perde tra la folla alla fiera cinque minuti di panico è stato ritrovato per fortuna dai carabinieri e riportato al papà e figlio di Paolo Curi che sollievo grazie ai militari Paolo Curi Paolo Curi lo ricordiamo tutti perché nella tragedia della lanterna azzurra aveva perso la moglie Eleonora Girolimini che era la persona adulta l'unica persona adulta che era perita in questa grande tragedia in questa grande disgrazia quando poi sono morti anche altri giovani quindi pensate l'ansia di questo genitore che già aveva perso la moglie e rischiava di perdere anche il bambino per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi e poi vediamo una una ripresa dell'episodio che veramente poi è finito anche nei telegiornali nazionali per quanto riguarda il delitto che si è compiuto a Sirolo per un incidente stradale la fiocina dritta al cuore un solo colpo di claidi morto per una emorragia e con questo articolo chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi come sempre appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto